In questo esempio pratico viene illustrato come accoppiare il Windows Phone. Per accoppiare il Windows Phone con R-Link 2, attivare il collegamento Bluetooth sul cellulare. In questo modo il dispositivo sarà visibile. Successivamente premere il menu telefono nel menu principale di R-Link 2. Il sistema consente di stabilire un collegamento Bluetooth tra il telefono e il sistema. Confermare la richiesta premendo OK. R-Link 2 cerca i telefoni attivi nelle vicinanze. Selezionare il telefono richiesto nell'elenco disponibile per stabilire il collegamento. Controllare il codice di conferma indicato dal sistema sul telefono e accettare la richiesta. Selezionare l'assegnazione delle funzioni Telefono e Supporti, quindi confermare la richiesta per continuare il collegamento. Scegliere se accettare di autorizzare la condivisione dei contatti, del registro chiamate e dei supporti con R-Link 2. Quando il telefono è collegato al sistema è possibile accedere alle funzioni del settore Telefono, ad esempio ai contatti del telefono.